Giornata di Coppa Italia in casa salernitana. Oggi alle 18.30 la formazione di Mr. Martuscello affronterà l'Udinese tra le mura del Blue Power per tentare di dare continuità alle ultime prestazioni. Passare il turno potrebbe essere qualcosa di arduo, di difficile, ma non di impossibile. Bisogna crederci, bisognerà mostrare di avere carattere in campo per proiettarsi a meglio la sfida di campionato contro il Catanzaro in programma il 29 settembre. Questa sera Mr. Martuscello nel suo 4-3-3 dovrebbe fare esordire Fiorillo in porta con Jarosischi e Ghiglione sulle fasce. Al centro della difesa ci sarà il ritorno di Velsus che potrebbe essere affiancato da Bron ma non ed escluderà anche l'esordio di Ruggeri. Al centrocampo sarà Maggiore a fare da play con Soriano e Teglio favoriti nei ruoli di Mezzala. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da Calon, Simi e Dalmonte. L'Udinese invece dovrebbe schierare il 3-4-2-1 con Sava in porta. Nella difesa uno tra Eboese e Christensen più Toure e Cabasele. A centrocampo Rui Modesto e Zemura sulle fasce con Lovric o Pagliero o Zaranga come centrocampisti. Sulle tre quarti bravo è uno tra Brennan e Kellencam ad accompagnare la prima punta Davis. Una gara che servirà molto per costatare la crescita del gruppo, la libertà mentale per affrontare a meglio una stagione difficile in cadetteria dove Granata possono contare sul supporto del proprio pubblico per trovare quelle energie capaci di far superare i momenti di difficoltà.